Penso che ieri era un po' corto, oggi siamo tornati con la testa giusta. Penso che nel primo tempo abbiamo sofferto un po' la pressione di Reggio Emilia, abbiamo risposto bene e siamo riusciti a vincere la partita. E' ancora molto presto nell'anno, penso che fino adesso abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo continuare così, soprattutto abbiamo vinto tutte le partite, però bisogna migliorare tutti i giorni, non vogliamo niente adesso e dobbiamo continuare a lavorare duro, fare gruppo e stare sulla strada giusto. Dobbiamo continuare a migliorare in difesa, loro hanno segnato 45 punti nel primo tempo oggi, che non andava bene, dobbiamo stare su quello, secondo me è la cosa più importante che possiamo fare quest'anno.